Siamo nel piazzale dell'AccorFenix con il direttore Francesco Baldarelli e con Gianluca Ranieri. Il primo giorno di lavoro in cui l'azienda si ritrova senza la corrente elettrica perché la Neon Appalti che giustisce il Tecnopolo venerdì alle 5 ha staccato la corrente bloccando tutte le macchine. Sì, ai sensi del contratto, anche del contratto di housing, non poteva assolutamente distaccare la corrente elettrica. È stato un fatto grave, come ho già detto, sono veramente sterefatto. Probabilmente la metodologia di arroganza porta a questi comportamenti. Noi comunque stiamo reagendo, abbiamo chiesto un appuntamento con il prefetto, abbiamo le condizioni per poter ancora resistere perché siamo una società sana e in ogni caso comunque le soprafazioni non le potremo accettare e quindi ci rivolgeremo anche da un punto di vista legale per far valere le nostre ragioni. Baldarelli, voi come azienda avete contrattato con i sindacati di questo storico Tecnopolo dell'Aquila per riassumere dalle liste delle persone che per più di 10 anni erano rimasti senza lavoro e ne avete riassunti ben 44? Beh, veramente noi ne abbiamo assunti più di 44 perché giusto la settimana scorsa avevamo già chiamato altre tre persone dalla lista quindi abbiamo assunto tante persone ed era anche una scommessa fondamentale quella di dare un'opportunità ai lavoratori che venivano nel polo elettronico a rioccuparsi della cosiddetta gestione dell'economia circolare dell'elettronica quindi il decommission dell'elettronica. Ci faccia capire bene questo perché erano persone che intorno ai 40-45 anni si erano ritrovati senza lavoro e che voi dopo 10 anni, quindi a oltre 50 anni, siete riusciti a riformare, rimotivare e soprattutto a dare loro una dignità professionale. Sì, questa è la cosa più importante ed è la cosa di cui siamo anche orgogliosi grazie anche al sostegno di capitali internazionali e anche grazie al progetto di Invitaglia avevamo questo e abbiamo questo in animo, abbiamo fatto tanto, dovevamo arrivare per accordo sindacale circa 74 occupati e quindi abbiamo ridato delle opportunità, una prospettiva di lavoro a persone che altrimenti non avrebbero avuto l'opportunità di lavorare in attività industriale. E questo è stato anche frutto della sua volontà, della sua cultura, come dice lei a 60 anni non mi cambiano perché lei ha fatto davvero l'impossibile e va dato atto di questo perché sicuramente non è stato l'imprenditore tipo, nel senso un imprenditore vero avrebbe pensato ai numeri, ai soldi e al guadagno lei ha pensato a queste persone, ha pensato alla dignità, la sua cultura, la sua cultura di uomo di sinistra comunque questo ha fatto, rispettare le persone. Sì, difatti i finanziari del fondo americano mi hanno definito tra virgolette socialista nel senso che pensano che in qualche modo io provenga da una cultura profonda, in realtà la mia identità e da questo punto di vista ritengo di essere stato corretto, di dare questa opportunità di lavoro e la testa non si cambia a una certa età, l'importante però è perseguire in maniera testarda fra l'altro questo polo elettronico abbiamo visto, ci sono anche delle altre attività che si stanno pian piano spopolando, ho visto l'insediamento anche di un gruppo internazionale che viene motivato come grande gruppo che darebbe dell'opportunità di lavoro mi pare che non ci lavora quasi nessuno, la ZTE, oltre al fatto che naturalmente sono dietro le procedure d'imbargo a livello internazionale, non so se hanno aperto una sede, diciamo un'agenzia qui all'Aquila per potersi rappresentare, i cinesi della ZTE, comunque lasciamo stare, noi facciamo cose sul serio, concrete ci impegniamo per andare avanti, vogliamo che questa cosa scorretta che è stata fatta nei nostri confronti assolutamente venga rimosso e faremo di tutto per rimuoverla, con le buone ma anche con le cattive. Domani mattina appuntamento dal prefetto? Sì, esatto. Ma è già così, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì sarebbe già il quarto giorno senza corrente. Gira l'orologio dei danni. Gianluca Ranieri aveva iniziato a seguire la storia di questa azienda e la struttura appunto dell'amministrativa, diciamo così legale, quando era consigliere regionale. Sì, assolutamente, a noi piace molto l'Accord Phoenix e il fatto che abbia deciso di installarsi in questa zona, all'Aquila. È chiaro che la vicenda setta una luce sinistra sulla situazione. Non può succedere perché cose di questo tipo scoraggiano l'installarsi di nuove imprese sul territorio. Quindi noi dobbiamo assolutamente capire cosa sta succedendo, andare in fondo alla vicenda e evitare che nel futuro possa risuccedere. Sì, la cosa che risulta strana è che si sente parlare in un modo probabilmente ad altri tempi. Nel senso, cioè, è assurdo, no? Pensare che ogni ora in cui una macchina sta spenta, macchina di milioni di euro, quant'è l'investimento totale che voi avete fatto in questa area? L'investimento totale è di 44 milioni di euro. Quindi praticamente un investimento molto importante. Dentro ci sono delle macchine che comunque nessuno le può toccare, non si possono muovere, sono ancorate per terra col cemento armato e sono macchine imponenti. Quindi non è un investimento effimero. Non siamo al 5G, siamo all'hard investments, come dicono gli inglesi. Quindi da questo punto di vista questa è un'attività industriale meccanica, quindi fatta di macchine che vengono però guidate da un sistema elettronico complesso remoto e questo sistema elettronico complesso è già fermo e noi abbiamo anche grande preoccupazione che queste macchine possono riattivarsi in maniera seria. Cioè, onestamente, forse non si sono resi conto di quello che facevano. Hanno fatto una cosa, magari con l'idea di trovarsi di fronte a una stanza dove c'erano due o tre computer. Qui ci sono delle cose complicate perché se le macchine venissero danneggiate da questa interruzione di corrente, probabilmente i danni sarebbero quasi, quasi, per loro irreparabili e non hanno idea di quali potrebbero essere. Secondo me hanno ragionato senza riflettere. Probabilmente hanno ragionato sotto l'impulso, non hanno avuto i necessari consulenti legali. I lavoratori hanno scelto di rimanere qui fuori sia la giornata di oggi che la giornata di domani. In un momento di crisi così profonda, vedere 54 persone che poi con il trascorso storico e personale che ha seguito questo tecnopolo negli ultimi dieci anni, è davvero triste vederli qui fuori? Assolutamente sì. Denuncia una situazione che è fermamente ollerabile. Chiaro che in questo momento, visto che il problema è aziendale e che comunque questi sono lavoratori che dovrebbero tenere molto a questa realtà, mi aspetto che ci sia una concertazione, un'unione, la capacità di fare una forza comune per risolvere il problema. Questa forza comune deve venire da tutto quanto quello che è il comparto produttivo. Nonostante questo, comunque, la dirigenza della Corfenix ha garantito loro gli stipendi sia per oggi che per domani. Sì, noi adesso ci stiamo guardando un po' intorno, cerchiamo di capire anche dopo l'incontro del prefetto cosa fare, quali saranno le azioni che si intendono intraprendere, questo è fondamentale. Peraltro abbiamo chiesto anche al comune dell'Aquila che è proprietario del sito, meno la nostra proprietà che è naturalmente di 20.000 metri qua di cui siamo proprietari, però tutto quanto è di proprietà del comune dell'Aquila ed è stato dato in concessione per 20 anni a 0 lira, 0 euro. Praticamente noi abbiamo pagato quasi un milione e due di euro al gestore del Polo e non sappiamo questi soldi che sono andati a finire per questa ragione, abbiamo anche chiesto l'elenco dettagliato dei costi che naturalmente loro sostengono per questo housing, perché non si capisce come mai noi paghiamo tutti questi soldi, non c'è un corrispettivo dei servizi. La struttura interna, la 231, ci ha detto non potete più pagare perché altrimenti fate distrazione di fondi aziendali, cioè non è un capriccio della proprietà. Ma comunque è previsto che in un contratto ci possa essere la ricontrattazione oltretutto un recesso, giustamente se poi la controparte non vuole mediare. Certo non è assolutamente previsto che si possa staccare la corrente, oltretutto quando poi voi giustamente dite e ci avete raccontato che le fatture della corrente sono tutte state pagate. Sì, sono tutte pagate, anzi siamo dentro le procedure contrattuali. Anzi, stiamo valutando di fare anche qualche altro gesto importante se non verrà riattivata la luce entro un giorno. Grazie allora Francesco Baldarelli, direttore dell'Accorfenix e grazie a Gianluca Ranieri. Grazie a voi.